Sì, si muove tutte e due levette contemporaneamente. Sì, nella stessa direzione e nel frattempo spingono avanti. Leggermente? Sì, io ando in avanti. No vale, pensavo che una delle esche non funzionava bene. Sì, è strano quell'esche. Ah, sì? Vabbè, sul frutto 2200... Ma guarda, 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 guarda. Allora, quando inizia la peggia veloce rosso...